Come vi abbiamo già raccontato nella recensione che trovate sul nostro canale YouTube, Immortals non è affatto un clone di Zelda Breath of the Wild e anzi, sotto certi aspetti, riesce persino a perfezionare la formula vincente dell'ultimo capitolo della saga Nintendo. Proprio per questo la versione di Immortals Fenyx Rising su Switch riveste un'importanza particolare e rappresenta quasi una tappa obbligatoria per tutti gli utenti della console ibrida che aspettano l'arrivo di Breath of the Wild 2. In questo approfondimento cercheremo di capire perché, nonostante gli evidenti compromessi dettati dall'hardware di Switch, la conversione per la piattaforma Nintendo sia una valida alternativa alle altre versioni presenti sul mercato. Prima di proseguire in ogni caso ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo video di Avriai.it. La carta vincente di Nintendo Switch, ovvero la sua natura ibrida, è un'arma a doppio dettaglio. La console è l'unica piattaforma che permette una transizione fluida tra gioco portatile e l'esperienza delle home console, ma allo stesso tempo questa sua peculiarità impone delle caratteristiche hardware meno performanti rispetto alla concorrenza. Per quanto si inizi a pensare a soluzioni alternative come quelle del cloud gaming o a revisioni hardware in grado di migliorare le performance di Switch, sempre più spesso il supporto dalle terze parti viene a mancare e la piattaforma Nintendo non ospita titoli diffusi su console PC. È chiaro quindi quanto il caso di Immortals sia una vera e propria anomalia nel panorama odierno, tanto del mercato in generale quanto all'interno delle stesse politiche di Ubisoft, che del suo recente trittico di Open World, composto da Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising, ha scelto solo quest'ultimo per una pubblicazione su Switch. La decisione del publisher francese dovrebbe far riflettere allora sull'importanza di una conversione del genere. Da un punto di vista grafico, i limiti di Immortals Fenyx Rising su Switch sono palesi. Sulle altre piattaforme, la direzione artistica di Immortals punta tutto sul colpo d'occhio d'insieme ed è in grado di regalare delle viste panoramiche piuttosto ispirate. Sulla console Nintendo la resa grafica subisce un downgrade significativo sotto ogni aspetto, ma non per questo risulta spiacevole o invalidante. Tra i più colpiti c'è la distanza di visuale, molto ravvicinata e ora accompagnata da un uso intensivo di nebbia per ridurne l'estensione e mascherare l'effetto pop-up. Inoltre, ad un abbassamento della risoluzione dell'immagine impostata sui 720p e della definizione delle texture, corrisponde una riduzione del framerate che punta ai 30 fps con qualche sporadico calo nelle fasi d'azione. Come è accaduto per The Witcher 3, la comparazione fianco a fianco con le altre versioni è da un lato giusta, ma allo stesso tempo anche fuorviante. È ovvio che se si cerca una fedeltà grafica in grado di restituire un impatto visivo di tutto rispetto, non si può pretenderla da una piattaforma con delle componentistiche così datate. Anzi, l'essere riusciti a scalare un open world del genere in una versione stabile e perfettamente giocabile denota una certa cura nell'operazione di conversione. Non va dimenticato ad esempio che mentre Breath of the Wild nasceva come titolo pensato appositamente per gli hardware di Wii U e Switch, quello di Immortals è un motore grafico ideato per rendere al meglio su piattaforme come PS4 e Xbox One. Accettati i compromessi tecnici, gli utenti Nintendo possono vivere l'avventura di Phoenix sotto una nuova luce. La portabilità è infatti un vantaggio che tutti i possessori di Switch avranno ormai imparato ad apprezzare, non solo perché le dimensioni ridotte dello schermo mitigano l'entità del downgrade grafico. In modalità portatile, le riuscitissime fasi esplorative di Immortals acquisiscono una nuova profondità. La densa mappa di gioco, disseminata di segreti da scoprire e sfide da affrontare, invoglia continuamente il giocatore ad un'esplorazione libera guidata esclusivamente dalla curiosità. Un free roaming che ben si presta alla possibilità di sessioni mordi e fuggi dettata dal gioco in mobilità. Il privilegio di poter interrompere e riprendere in qualsiasi momento un girovagare così ispirato è una possibilità che potrebbe rappresentare, per un gran numero di giocatori, una caratteristica ben più determinante della resa grafica complessiva. Ubisoft sembra essere consapevole di questa natura di Immortals, tanto che una delle feature più interessanti è la presenza del cross save. Infatti, se si dispone di più versioni del gioco, è possibile caricare i salvataggi online associandoli al proprio account, permettendo così di continuare una stessa partita su hardware diversi, un'opzione che non sarà alla portata di tutti i giocatori, ma che speriamo venga sempre più implementata all'interno dei titoli multipiattaforma, proprio per garantire agli utenti una sensazione di assoluta libertà. In definitiva, la conversione di Immortals Fenyx Rising su Switch non va assolutamente sottovalutata. Da un lato dimostra che con il dovuto impegno il supporto a libri da Nintendo può essere garantito anche per produzioni che sulla carta sarebbe difficile immaginare su una console portatile. Dall'altra è un'occasione unica per avvicinare una grande fetta di pubblico alla vera sorpresa di questo fine 2020. Chi ha amato l'ultimo capitolo di The Legend of Zelda non può lasciarsi sfuggire Immortals, un titolo che nonostante i limiti della conversione aspira a un posto nell'Olimpo dei Grandi su Nintendo Switch.